e Ogni posto e ogni occasione diventeranno ancora più esclusivi con epimil il rialzo da sedia di neonato epimil è la massima espressione dello stile made in italy della funzionalità e dell'innovazione a epimil non manca nulla quando si parla di sicurezza infatti ha un kit di cinghie composto da sparti gambe da fissare nella parte anteriore della seduta e una cinghia a girovita che si monta nello schienale per contenere il corpo del bambino ed evitare che possa scivolare Ma non è tutto epimil si ancora perfettamente alla seduta e allo schienale della sedia grazie a due cinghie regolabili C'è davvero tutto quel che serve una pratica tavoletta piedini antiscivolo seduta anatomica e braccioli contenitivi per una comodità mai provata in più epimil è universale e più sicuro di un seggiolino da tavolo perché si fissa direttamente alla sedia la tavoletta è ideale per i bimbi più piccoli mentre basta toglierla premendo i pulsanti rossi a destra e sinistra dei braccioli per i bimbi più grandi la seduta si regola in tre posizioni d'altezza da 0 a 18 centimetri così sedersi a tavola con mamma e papà è ancora più facile e divertente ma non è tutto epimil si chiude in pochi secondi premendo i bottoni rossi sotto i braccioli ed è compatto facile da lavare e ideale in qualsiasi spostamento in un resort al mare o in uno chalet di montagna con epimil di neonato ogni bambino è all'altezza della situazione più prestigiosa